Sì, è successo un macello qui. Tre vittime, un'intera famiglia. È stata uccisa anche una bambina. Ti sei già fatto qualche idea sul caso? Eccola presto. E quelle lettere? Perché hai lasciato solo la tua figlia? Perché l'hai abbandonata? Il caos in fila. La città dei figli sbagliati. Il contenitore. La città dei figli sbagliati. E quelle lettere?